a 15 2 km di coda per traffico intenso tra pontremoli e berceto in direzione parma in a 1 in direzione bologna per traffico intenso rallentamenti tra incisa reggello e firenze sud e code a tratti tra calenzano sesto fiorentino e il bivio con la variante di valico code in uscita a firenze sud provenendo da bologna in a 11 code tra firenze ovest e prato est in direzione pisa sulla fippi lì code in uscita alla strassigna provenendo da firenze per la viabilità cittadina a firenze da domani fino a metà settembre lavori di e distribuzione in via pisana nel tratto a cavallo del ponte sulla greve informazioni sulle chiusure sui nostri canali social muoversi in toscana inf servizio in collaborazione con regione toscana città metropolitana e comuni di firenze buon viaggio buon viaggio